Siamo venuti a sbirciare le prove del grande spettacolo che andrà in scena in piazza, piazza 20 settembre per l'ultimo dell'anno, siamo così un po' in avance coperta, siamo venuti a rompere un po' le scatole. Ma è un grande piacere Lino, come vedi sei venuto qui nella Tana del Lupo perché in backstage all'Accademia dello Spettacolo stanno preparando la coreografia che sarà il culmine del Midlay, ovviamente dello spettacolo Disco Diva, ma non è finita qui perché ci è venuto a trovare anche un ospite stamattina, un super ospite internazionale. Axe Donald by Trax, Long Train Running, hit degli anni 70-80, 6 milioni di dischi, successo planetario, sarà in piazza Fara. Il 20 settembre, cioè 20 settembre in piazza 20 settembre e dalle 10, dalle 10 in poi ci trovate lì insomma tutti quanti, ci sei pure te. Vabbè faremo una capatina, senti riproporai i tuoi... Sì, Long Train Running, get ready, brother lui, facciamo una nuova versione di Long Train Running, ci divertiremo. Insomma un po' di trascinamento di folla ma non solo. Non solo possiamo darla questa anticipazione che ci saranno anche dei new edit che sono stati fatti dalla nostra etichetta discografica, Disco Diva Records, perché adesso siamo a tutti gli effetti anche etichetta discografica, dei suoi successi remixati da Daniele Baldelli e un grande Midlay con Leroy Gomez, quindi le anticipazioni saranno tante. Musica Grazie a tutti.